Non parte! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Livio, tanti auguri a te! Aspetta, bisogna accendere le candele? Ascoltalo io! Chi ha l'acendino? Qua è il coltello! Accendino? Ci vogliono questi! E qua! E qua il coltello! Siamo sicuri che sono candele a questo nome? No, non è andata! Deve essere rapidissimo! Deve essere rapidissimo perché sono tre pezzi! Gli diamo fuoco alla casa! Vai! Perché c'è la panna? Ce la puoi fare? Io mamma cosa c'è? Vai lì! E c'è la panna? Vabbè! Un po' non accendere! Sì! E' questione di fisica! Sì! E' questione di fisica! Ciao! 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 Grazie! Arrivederci! Grazie! Ancora uno! Ciao! Ciao! E' testo! Ciao! Emozionato! E forse questo servo è bagnato di volta in volta o sbaglio? Ho visto che loro lo bagnano quando lo... Ma che cos'è stata? Sì, vero. Che cos'è stata? Ma che cosa è stata? Ma no, ma che cosa è stata? Livio lo scopo! Ah, sì, sì, in fondo a destra! In fondo a destra! A capo delle mani! Dai, insieme Livio, come tipo matrimonio, con la mano, su te tuoi! Livio è un po' sui! Vai, vai! Pettina, pronti? Via! Via! E il taglio della torta! A fettina qua! Beh, la velina, a fettina! Allora, fermati! Devi togliere le fragole! Devi togliere le fragole! Devi togliere le fragole! Quante è totale? Casino! Un cassetto! Sono 3 per 4 12? Ci sono più, 2, 3, 4! Ci sono 3 15! Quindi sono 4 per 4 16! Va bene? Ci sono 4 per 4 16! Allora, divedi 4, 4 e chi ti chiudi la cittura! Troppo, certo! Deltasmiati coronario! Grazie.